In centinaia in coda questa mattina per ritirare il certificato elettorale Treviso. La nostra truppa allontanata dai vigili urbani interviene il segretario dei pensionati della CGL. Ben ritrovati, edizione trevigiana dei nostri notiziari. Le avete appena sentite i titoli delle principali notizie. In coda dunque allo sportello almeno fino al 5 aprile. Poi comunque dovranno uscire dei messi comunali casa per casa, ma l'amministrazione fa appello al senso civico dei cittadini. Non ha i soldi per poter raggiungere infatti tutti. Intanto in procura pioggia di esposti. Sentiamo. Se non vengo messo nelle condizioni di poter votare, è una lesione grave di un diritto fondamentale di un cittadino. La vicenda delle tessere elettorali si sta rivelando un vero caos. La gente è furibonda e le lamentele stanno già prendendo la strada del tribunale. Esposti in procurazione pubblica, denunce per interruzione del pubblico servizio, denunce per l'adesione del diritto ai cittadini. Secondo me ne arriverà più di una, perché io ho già avuto informazioni da molti avvocati che stanno provvedendo in questo senso. Persone in coda e lunghe attese, ma per questa gente dietro l'angolo c'è la beffa. Dopo il 5 aprile, coloro che non hanno fatto la fila e speso ore davanti allo sportello verranno citofonati, comunque dal messo comunale. Il fatto è che l'amministrazione cerca di risparmiare, non ha in cassa quei 100.000 euro necessari alla distribuzione di tutte le tessere della città. Faccio un appello alla responsabilità dei trevisiani sulla base delle difficoltà economiche del comune in tal senso. Più gente va allo sportello, spiega l'assessore, meno messi gireranno per Treviso. Se riusciamo a consegnare molte tessere oggi, riusciremo probabilmente a consegnare a casa, agli anziani, a chi non ha possibilitato a rivolgersi alle uffici comunali successivamente. Questo perché più tessere noi consegniamo, meno spesa ci troviamo ad affrontare. Peccato che in coda siano proprio gli anziani. Dovranno spendere i soldi dei messi comunali lo stesso, quindi hanno creato questo disastro per incapacità ed incompetenza. Una soluzione? Le tessere vanno consegnate ai presidenti di seggio, quando uno va a votare consegna la vecchia tessera e ritira quella nuova. Mi sembra una cosa normale, banale.